Anche su carta stampata che permita il rinnovo del suo contratto, le parole sono salitari. Continuiamo ad ascoltare, non so se si approfondirà questo tema o meno. Comunque, tanto di capire una vantia a Cesare Prendini. Grazie. Ma diciamo che dopo l'espulsione c'è stata una partita per cercare di contrarre. Ovviamente andavamo in timore di un contropiere, di una ripartenza al nostro motorale. 11 contro 11, come dicevo prima, la partita era molto in equilibrio. Allora, la partita era molto in equilibrio. Allora, la partita era una giocata, come ho detto prima, la partita era molto in equilibrio.